Le passioni di Patrizio Bertelli, l'aretino più famoso nel mondo, sembrano che siano due, la giostra del Saracino da una parte e la vela dall'altra. E il mondo della vela non si è dimenticato di lui, visto che lo ha insegnato del prestigioso riconoscimento di velista dell'anno e che meglio di Mr. Prada poteva avere questo premio considerando che nella vela Bertelli ha investito capitali tali da portare questo sport ad essere non più una disciplina riservata a pochi, ma sport di grande popolarità grazie alla sfida lanciata in questi anni da Luna Rossa nell'America's Cup. Nella magnifica serata che si è svolta a Palazzo Ducale di Genova, Bertelli è stato insignito del riconoscimento come miglior armatore timoniere. Un bel incentivo a insistere in quella che per Bertelli è diventata una missione vincere la più prestigiosa competizione velica del mondo. Per farlo il ragazzo di Colcitrone ha alzato il tiro, certo che prima o poi questo obiettivo verrà raggiunto.